Grazie a tutti. E' stata la presenza anche di questo strumento che racconta l'evoluzione stessa della musica popolare della Sardegna e che bene evidentemente si inserisce nel contesto della banda. Per Vincenzo Canova che è cornista mi pare nella banda ma suona anche la Unedas e con una formazione, con una concordia in genere, usiamo chiamarla così, in questo caso di Sons de Ganna, quindi una formazione anche questa molto legata al territorio con un bel patrimonio di musica e di repertorio. Però Vincenzo volevo chiedere questo, quest'anno è stato particolarmente importante il 2013 per te, intanto appunto il 2 giugno questa grande occasione, ma poi mi pare anche Sofia sia una bella cosa personale. Quest'anno penso che sia stato l'anno più bello della mia vita perché in primis è nata mia figlia Sofia, ha già 26 giorni, quindi è una cosa abbastanza recente, sono ancora un po' molto emozionato. E poi sì, è stato molto importante anche per quanto conoscerne la festa della Repubblica, in quanto per la prima volta si è riusciti a inserire le Unedas nella banda e abbiamo sfilato tutti insieme al 2 giugno. Era stata un'emozione molto forte anche perché comunque abbiamo suonato davanti alle più alte cariche dello Stato e era la prima volta che le Unedas sono inserite nella banda e si adoperavano per questo, diciamo. Ecco, questo evidentemente come dicevo anche al generale, comandante, è un motivo di orgoglio anche per tutti noi. Noi adesso sentiremo un pezzo di ensemble della Unedas che Vincenzo Canova condivide con Sonus de Ganna. Nel vastissimo repertorio, nei repertori per le Unedas c'è anche qualche brano che ci riconduce al clima natalista, anzi ce lo anticipa proprio perché uno dei classici è proprio Celesti Tesoro e noi sentiremo proprio queste melodie con Sonus de Ganna e naturalmente Vincenzo Canova. Grazie. 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 Sonus de Ganna, vi prego, potete stare ancora qui in scena anche se non suonate, però ci piace avere ancora i vostri strumenti musicali perché io vorrei parlare con Paolo Vacca, giornalista da 32 anni, giornalista dell'Ansa e lui è esperto evidentemente in sicurezza, forze armate, insomma tutto quello che è l'apparato militare. Da qualche tempo è anche editore e direttore del giornale online con la Brigata Sassari, quindi sa tutto, insomma è lo storico della Brigata Sassari, quindi vorrei invitarti, caro Paolo, intanto grazie per tutto quello che fai, io poi ho attinto molto dal tuo sito per avere delle informazioni. Però da buon giornalista capace di fare sintesi io ti chiedo davvero una istantanea che ci possa riportare in qualche modo in pochi istanti appunto in pochi minuti la storia della Brigata Sassari, della banda della Brigata Sassari. Sono 25 anni che a trovarci oggi qui sono volati in un soffio e che come sezione di Cagliari dell'Associazione Nazionale Brigata Sassari abbiamo voluto raccogliere in un calendario che è il riepilogo di questi anni di attività della banda. Una banda che come veniva ricordato prima ha avuto il suo esordio in occasione della festa delle forze armate il 6 novembre del 1988 e poi è cresciuta, è cresciuta con l'affetto di tutti quanti i sardi, un affetto che viene confermato a 25 anni di distanza anche oggi dall'affetto e degli artisti che stanno abbracciando la banda e dall'affetto di tutti i sardi. Ma ritengo, ricostruendo questo percorso di impegno, di grande volontà dei musicisti della banda, che sia tutto meritato. E ricordando un altro momento importante, la prima missione all'estero fatta dalla Brigata Sassari in Bosnia-Herzegovina, la prima compagnia del 151 andò in Bosnia portando un CD con le musiche, con Dimonios, e i bambini adottati dai sassarini, gli orfani di Sarajevo, portati d'estate in visita, allora comandava il 151 Bruno Stano che poi ha comandato la Brigata Sassari in Iraq, alla caserma a Monfenera, dopo che il maestro Zeni diresse Dimonios cantato con l'inno in sardo, la sorina che accompagnava i bambini chiese ad Andrea Adesso suonate mazzitti e i bambini cantarono ai Dei Davoli in serbo croato facendoci restare tutti quanti sbalorditi perché avevano tradotto l'inno in sardo. Poi la banda, dopo questa esperienza, sono andati a suonare anche a Sarajevo, successivamente hanno suonato in Albania, ma il percorso all'estero è stato caratterizzato anche da partecipazioni a festival militari, e hanno dato benissimo una loro trasferta in Svizzera, ma mi piace ricordare soprattutto il 2009 quando con l'uniforme storica, con la quale li avete visti oggi suonare, hanno suonato nella piazza verde di Tripoli per il quarantennale della rivoluzione libica, mandati dall'autorità italiana a rappresentare l'Italia. E lì mi pare che ci fossero anche 50 gradi di temperatura. A 50 gradi, con quella uniforme, ma i sassarini sono giuri e quindi riesco a superare. Caro Paolo, io ti ringrazio molto perché ci sarebbero veramente tante cose da raccontare, molti aneddoti, però dobbiamo giustamente andare a pubblicizzare. Un'ultima cosa sul calendario. Il calendario è un'iniziativa, come dicevo, dall'Associazione Nazionale, è diventato un oggetto cult perché è andato a Ruba, però collegandosi sul sito è possibile sapere come poterlo ottenere, perché questo è un oggetto di collezione della quale andiamo giustamente orgogliosi. Io ce l'ho e quindi grazie. E adesso pubblicità, tra poco. Grazie. 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 Grazie.